E' Lucia Annibali il nuovo difensore civico della Toscana, ma è scontro tra maggioranza e opposizione sull'iter di nomina. Raffica di dimissioni nel Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane, preoccupazioni bipartisan per l'organizzazione del centenario, sabato Gianni a colloquio con San Giuliano in occasione della visita del ministro a Firenze. Il Consiglio regionale della Toscana inizia i lavori nel 2023 con una seduta accesa, segnata dallo scontro tra maggioranza e opposizione sulla nomina del nuovo difensore civico, ma anche da una unità di intenti in merito alle sorti del Comitato Pucciniano, con preoccupazioni bipartisan per l'organizzazione delle iniziative legate al centenario della morte del grande maestro, che ricorrerà il prossimo anno. L'argomento più caldo della prima seduta dell'anno è stato sicuramente quello della nomina del difensore civico regionale. A essere eletta alla quarta votazione, con 23 voti a favore, tutti arrivati dai banchi della maggioranza, è stata Lucia Nibali, avvocatessa, ex parlamentare e paladina della lotta alla violenza sulle donne, un impegno che le valso il riconoscimento di cavaliere al merito della Repubblica. Ad aprire il dibattito Giacomo Bugliani, consigliere del PD e presidente della prima commissione, che ha seguito il percorso di individuazione delle candidature, un iter segnato nei giorni scorsi dal cambio di proposta da parte di Italia Viva. I Renziani, al fotofinish, hanno ritirato il nome di Elisabetta Meucci in favore di Lucia Nibali, sulla quale sono poi confluiti i voti della maggioranza. Una procedura che per modi e tempi ha sollevato le critiche delle forze di opposizione. La figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. Secondo voi, se è normale votare alle ore 10 una nomina presentata alle ore 10.46? C'è stato detto di sì, che è normale. Io è due settimane che chiedo agli uffici del Consiglio regionale della Toscana, che sono professionisti, fiorfiore di professionisti, lautamente retribuiti dai cittadini per svolgere il loro lavoro, di scrivere due righe in cui mettono nero su bianco che questa nomina è irregolare, che quella procedura di voto è irregolare. Ancora sono ad aspettare le due righe. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi aspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze, su colui che, con lei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modo superante di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Allora, sicuramente una figura apicale, una figura di garanzia è stata, come dire, messa sul banco per cercare di dare consistenza, è tenuta una maggioranza che in questa vicenda ha dimostrato sicuramente di, come dire, sapersi ricompattare, tutto questo però a scapito di quello che dovrebbe essere la normale dialettica tra maggioranza e opposizione, soprattutto nel momento in cui si parla di figure che dovrebbero caratterizzarsi per neutralità, imparzialità, e quindi svolgere, diciamo, un ruolo di interesse a tutto campo, quindi scevolo da qualsiasi, anche solo riferimento ad una storia politica. Questo è quello che avremmo spiegato e questo è quello che invece non è accaduto, ecco perché di fatto noi non abbiamo partecipato, con gli altri colleghi del centro-destra, a questa elezione nulla, diciamo, eccependo sulla figura, per carità, della dottoressa Annibali, con il massimo rispetto per la persona e per la sua storia. Però di certo non si possono fare battaglie politiche e, come dire, barattare incarichi per far tenere una maggioranza regionale, che anche in passato e anche su questa vicenda ha dimostrato di avere comunque delle grosse, diciamo, dei grossi motivi di crisi. E se la minoranza di centro-destra si è chiamata fuori dai giochi, decidendo di non presentare una candidatura e di non partecipare al voto, il Movimento 5 Stelle ha scelto un'altra strada per portare avanti la propria opposizione. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curriculum arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. In questo caso il partito di maggioranza, che non solo non ha fatto un'apertura alle opposizioni per la scelta di una figura super partes, ma praticamente a nostro avviso ha seguito una procedura che non è nemmeno regolare e ha espone questa nomina a dei vizi di incostituzionalità. Accuse, quelle arrivate dai banchi della minoranza, tutte rispedite al mittente dai partiti di maggioranza che hanno difeso sia il percorso che la scelta del nome. Questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico, perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere del nostro Paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. È stato eccepito una questione di metodo, sicuramente in tutti i percorsi si possono fare anche cose più socializzate, però ritengo che la contestazione del metodo abbia nascosto da parte della minoranza l'incapacità di dire no rispetto ad una proposta di qualità e anche abbiamo registrato un'assenza di proposte alternative, almeno da parte della maggioranza di centro-destra. Quindi l'Aula era sicuramente il luogo più deputato dal punto di vista democratico per discutere di quelle che sono le qualità, di quelli che sono i criteri, di quelli che sono i requisiti che i vari candidati che si sono proposti potevano avere. Si è scelto invece la strada del Laventino, ma lo si è scelto non tanto perché c'è stata una forzatura da parte della maggioranza che legittimamente ha avanzato la sua proposta, ma perché c'è stata una fuga dal confronto e da una scelta che, ripeto, secondo noi ha tutte le qualità per poter ricoprire quel ruolo. Anzi, faccio un grande augurio di buon lavoro all'Avvocato Annibali, e a questo punto difensore civico della Toscana. Si è fatto una cosa bella per la Toscana. Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico. La sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario, quello di essere il garante di tutti i toscani. Un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della regione toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo, umano, per quello che ha vissuto nella sua vita. Credo che la Toscana oggi esca più forte. Ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico. Io personalmente, come capogruppo di Televiva, di una forza politica che si è assunta questa onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimirazza. Dopo lo scontro sull'iter di nomina del difensore civico, maggioranza e opposizione hanno ritrovato unità di intenti nel dibattito sulla situazione del Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane. L'occasione è stata l'interrogazione del consigliere della Lega, Massimiliano Baldini, in merito alle dimissioni del tesoriere del Comitato. L'uscita di scena, con polemica del professor Nicola Bellini, ha infatti suscitato preoccupazioni bipartisan sulla programmazione degli eventi e sulla gestione delle risorse in vista del 2024, anno del centenario della morte di Puccini. Ad oggi che cosa è successo? Che le dimissioni in atto sono state molteplici, sia nel Comitato che nel Comitato Scientifico, di particolare peso. Il Comitato non si è riunito a più riprese, non riuscendo ad approvare il bilancio, quindi non riuscendo a poter spendere quelle risorse che erano assegnate per quanto riguarda l'anno 2022, ma che vedono risorse estremamente importanti, 9 milioni e mezzo in vista di un appuntamento che è di portata mondiale, oggettivamente. E non solo, i rumors che anche oggi abbiamo è che le dimissioni potrebbero non fermarsi ancora e che la situazione è di completo stallo. La risposta del Presidente mi ha particolarmente soddisfatto per due motivi. In primo luogo perché ha riconosciuto che noi avevamo in qualche modo compreso, forse mi sento di dire fra i primi, qual era oggettivamente la situazione che si stava svolgendo. E mi ha soddisfatto perché non è stata posta su un piano di natura politica che soprattutto in queste settimane l'argomento ha preso piega. È sbagliato pensare a questo argomento sotto il profilo politico. A noi non interessa la questione politica, non interessa dove Veronesi si candida, non anche perché conosciamo le vicende di Veronesi, come persone che danno un giudizio politico su quello che Veronesi ha fatto sotto questo profilo. L'abbiamo visto, è passato dal Partito Democratico al Terzo Polo, a Fratelli d'Italia, è stato candidato con Sala, poi con Del Ghingo da Viareggio. Ma non è questo il punto centrale, altrimenti diventa una contrapposizione politica fra destra e sinistra che finisce per non servire a nessuno. Il punto centrale è la gestione del Comitato per le celebrazioni pucciniane, la gestione delle risorse di questo Comitato che hanno in prospettiva un appuntamento importantissimo che porta il nostro Paese all'attenzione mondiale, come del resto Giacomo Puccini rappresenta, e a maggior ragione il nostro territorio sul quale sono concentrate tante istituzioni, come ho avuto modo di dire, in Consiglio regionale, non possiamo permetterci di fallirlo, non possiamo permetterci di avere un gruppo di lavoro che non si riunisce perché non condivide questo Presidente, e quindi è necessario trovare una soluzione che può essere anche la più drastica. Mentre questo stato di cose è bene che sia portato alla massima attenzione, il Presidente Gianni ha detto che ne parlerà con il Ministro della Cultura, quindi immagino che anche questo sarà un passaggio importante. Lo abbiamo detto tutti, lo ha detto il sottoscritto in Consiglio regionale, ma lo hanno detto anche i sindaci, direi sostanzialmente all'unanimità dal punto di vista delle contestazioni dei fatti e degli svolgimenti. Poi qualcuno è stato più morbido sotto il profilo delle eventuali dimissioni, altri invece più rigidi, però mi pare di capire, e io l'ho detto in Consiglio, che se la gestione di questo Comitato, questo Presidente, non è in grado di portarlo avanti perché non ha più la fiducia del Comitato, ebbene, le considerazioni sono chiaramente univoche, anche perché un eventuale, fra virgolette, commissariamento del Presidente non darebbe lustro al Comitato e probabilmente non servirebbe a nessuno. Una preoccupazione, quella del carroccio, condivisa anche dalla maggioranza e dal Presidente Eugenio Gianni, che nel rispondere all'interrogazione non ha nascosto i timori per le ripercussioni di questa impasse sulle iniziative in programma in Toscana. Nel ricordare che la nomina dei componenti del Comitato è di competenza del Governo nazionale, il Presidente si è impegnato ad affrontare l'argomento con il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che sabato sarà a Firenze. Siamo tutti molto preoccupati per come si stanno succedendo i fatti all'interno del Comitato. C'è stata oggi un'interrogazione anche dell'opposizione a dimostrazione che non è più soltanto un fatto di colore politico o un tema politico, ma è proprio un tema di essere all'altezza delle celebrazioni e dell'opportunità che queste celebrazioni rappresentano per la Toscana, per il Paese e per la provincia di Lucca. Ad oggi non c'è una progettualità, non c'è una visione, ci sono le dimissioni di un tesoriere e quindi chiediamo che venga posta la massima attenzione e che il Comitato cominci a lavorare in maniera totalmente diversa. Il Comitato, e aggiungo anche, essendo della provincia di Lucca, anche la Fondazione Puccini che deve essere protagonista, il Presidente purtroppo è lo stesso. Apprezzo molto la posizione della Lega che si è espressa prendendo le distanze dalla gestione del Comitato, mi auguro che il Governo andrà sulla stessa linea. Ripeto, non è una questione politica, non è una questione di maggioranze e minoranze, è una questione di un anno importante. Giacomo Puccini è uno dei compositori più conosciuti al mondo e il Comitato nazionale deve essere all'altezza di un grande paese e di un grande musicista che ha contribuito a portare cultura, l'opera e la musica nel mondo e facendo conoscere l'Italia a tutti. A stemperare le tensioni e rassicurare gli animi ci ha provato Fratelli d'Italia, ricordando che al netto delle dimissioni, nei giorni scorsi, il Comitato è tornato a riunirsi sotto la guida salda del Presidente Alberto Veronesi. Veronesi è il Presidente in carica del Comitato per il Centenario Pucciniano, sta lavorando, si sono riuniti anche ieri al Comitato, peraltro quindi le informazioni che abbiamo affrontato oggi sostanzialmente al di là del modo molto più che tranquillo con cui sono stati apposti anche dal Presidente Gianni non ci preoccupano, sappiamo che Veronesi farà un ottimo lavoro, che il Comitato porterà a termine i suoi lavori, ma soprattutto lo diciamo non soltanto da amanti di Puccini, da amanti della musica, io lo dico anche come Lucchese, io lo dico anche come ex Presidente di un altro Comitato Centenario, che era quello di Carlo Cassola, che è sepolto a Monte Carlo, che dobbiamo lasciare lavorare sostanzialmente questi organismi senza troppe ingerenze. Il Professor Veronesi è conosciuto e stimato da chi lo conosce chiaramente, quindi anche da noi, e ci aspettiamo sicuramente che per il 2024 saremo nelle condizioni di omaggiare il Grande Maestro. Quindi piena fiducia? Assolutamente piena fiducia. Per seguire in diretta le sedute del Consiglio regionale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.